Salve amici siamo i giocatori per caso, adesso mentre rincorro a questo bellissimo pollo che è una cosa bestialissima da fare facciamo la sfida caccia animali selvatici per la settimana 1 della nuova stagione di fortnite ma intanto iscrivetevi al nostro canale iniziamo subito questa sfida, bisogna dare la caccia ad alcuni animali selvatici ora vi metto la mappa con tutte le zone, ci sono i polli a est di parco pacifico e anche alla fattoria io ad esempio sono andato alla fattoria tutto quello che dovete fare è sparare al pollo, ma fate attenzione a che corrono veramente veloce sono veramente dei turbopolli quelli che sembrano, una cosa incredibile però sono divertentissimi, come avete visto all'inizio li potete anche prendere e poi potete saltare altissimo col pollo quando muoiono lasciano cadere delle ossa e del cibo, delle cosce di pollo poi ci sono le rane, le rane le ho trovate in queste posizioni io quindi vicino lago languido, poco più a nord, a destra quindi a est della guglia e vicino la foresta frignante qui è sicuro di averle viste perché adesso le vedete ma penso ci siano un po' ovunque, dove ci sia del verde comunque le rane sono abbastanza veloci quando le trovate non corretterle dietro perché difficilmente le riuscite a prendere a meno che non cambiano strada e tornano indietro ma vi conviene spararli in qualche modo quando muoiono rilasciano una sacca puzzolente che serve per delle combinazioni con l'arco qua più avanti ad esempio ho trovato la terza rana o meglio la seconda rana, quindi il terzo animale selvatico da uccidere e anche qua ho trovato il sacco puzzolente poco più avanti, a est della guglia, ho trovato la terza rana quindi siamo a quota 4 poi ci sono i cinghiali io li ho visti in queste zone qua al nord est il parco pacifico alla cascina colossale e anche la foresta frignante ma il mio consiglio non è certo di attaccare a mani nude un cinghiale è sempre un cinghiale qua guardate sono appena atterrato ho visto che c'era un cinghiale ho deciso di attaccarlo ma in realtà era lui che stava attaccando me carica e vi da delle belle testate in più se lo rincorrete scappa veramente veloce è difficile riuscire a prendere il mio consiglio è di andare con un bel fucile potente poi ci sono i lupi io li ho visti alla foresta frignante ma penso ci siano un po' ovunque non ho girato ancora tantissimo per cercare i lupi in questa zona però li ho visti di sicuro e adesso li vedete qui ero alla foresta ho trovato sia dei cinghiali che dei lupi e giravano assieme il problema è che sparando il cinghiale ho colpito anche il lupo e poi mi attaccava e ho dovuto difendermi però di solito i lupi non dovrebbero essere aggressivi li potete anche domesticare se gli date un cosciotto di pollo ma la nostra sfida è finita spero di esservi stato utile se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche e attiva la campanella grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori